Un saluto a tutti da Maurizio, dallo staff Jonathan e ben ritrovati sul nostro canale. In questa presentazione andremo a fare un unboxing insieme a voi per scoprire le principali caratteristiche e il contenuto della confezione del leggendario Easy Star di casa Multiplex. Prima però vi facciamo una breve descrizione. Si tratta indiscutibilmente di un aeromodello perfetto per chi vuole approcciare al volo, ma anche per piloti esperti che vogliono un modello da divertimento senza particolare impegno. In questa nuova versione Multiplex ha rinnovato il look dell'intramontabile Easy Star. Quella che presenteremo oggi è la versione 3 pronta per il volo, completamente in elapor. Perfetto per chi si avvicina per la prima volta al modellismo volato. Infatti troverete già tutto preinstallato, ma soprattutto non sarà necessario acquistare null'altro. Troverete tutto il necessario per farlo volare sin da subito nella confezione che riceverete. Le due precedenti versioni Easy Star sono famose in tutto il mondo come aerei per principianti, di alta qualità risultando peraltro molto affidabili, con i quali molti piloti hanno mosso i loro primi passi nel mondo del volo. Questa nuova versione è il risultato di anni di studio e miglioramenti rispetto alle versioni precedenti. Fra le principali migliorie, oltre a un design rinnovato con una nuova colorazione, questa versione viene fornita con gli alettoni, servo comandi con ingranaggi in metallo, motore e regolatore brushless. Le proprietà di volo di questo modello sono indiscutibili. Con la sua batteria LiPo 3S da 2200 mAh riesce addirittura ad arrivare a 40 minuti di volo senza particolare ausilio di termiche. Grazie alla posizione del motore tollera benissimo atterraggi su qualsiasi tipo di terreno, riuscendo ad atterrare i spazi molto ristretti. Si tratta di un modello leggero, circa 700 grammi, semplice da trasportare ma soprattutto da preparare per il volo. La lunghezza della fusoliera è 97 cm, mentre le ali misurano ben 136 cm. Insomma, un modello che vi sorprenderà ancora una volta, per il suo modo di essere versatile e la semplicità di apprendimento al volo. Chiaramente troverete sempre tutto disponibile nel nostro sito, nelle apposite sezioni dedicate. Inoltre, sempre sul nostro sito, troverete l'intera disponibilità di tutta la gamma multiplex. Ancora una volta siamo arrivati ai saluti finali. Prima però, come al solito, voglio ricordarvi di visitare il nostro canale YouTube, di cliccare mi piace e, se vi siamo stati di aiuto, di iscrivervi, in modo da rimanere sempre aggiornati. Potete inoltre seguirci su Instagram e chiaramente Facebook. Un saluto da Maurizio, arrivederci alla prossima recensione. Ciao!